A Piazza San Gaetano si sono accese ieri sera le prime luminarie della città, che partendo dai Decumani e da San Gregorio Armeno, illumineranno i quartieri di Napoli. E' partito dunque il calendario che vedrà fino all'8 dicembre tutte le altre accensioni artistiche previste dall'impegno economico ed organizzativo del Comune di Napoli. Nella zona famosa nel mondo grazie alla tradizione dei presepi, le prime installazioni si sono volute ispirare appunto a queste classiche figure natalizie. A Piazza San Gaetano Comincia l'8 novembre, comincia prima, comincia bene perché c'è il coinvolgimento delle associazioni di San Gregorio Armeno, del centro storico, di tanti operatori. Si è fatto un lavoro di squadra col Comune e con la Municipalità e nei prossimi giorni progressivamente le luminarie si accenderanno in tutta Napoli, in tutti i quartieri, perché ci sono tanti turisti. Vogliamo far respirare i commercianti e gli operatori economici della nostra città e far stare un Natale quanto più bello e sereno possibile innanzitutto ai napoletani che se lo meritano.